No! 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 Caro diario, ciao, come stai? Io sto! Chiamavo veloce per dire anche oggi potrebbe andare meglio, ma non mi lamenta. E' finalmente iniziato l'estate. E' otto subito talmente tanto che non sei più tua per essere fatto che il 70% d'acqua va al materasso. Certo, ci sono un sacco di motivi per cui potrei piangermi addosso. La persona per la quale fino a due settimane fa ero unica ragione di vita, ora ha trovato improvvisamente una nuova ragione di vita. Si chiama Alberto. E che nome del cazzo per una nuova ragione di vita. Certo, con tutto rispetto per chi si chiama Alberto. Alberto Pizzoligme. E' un monopaterno milliardario. Questo mi ricorda che non sono milliardario, ma soprattutto che è un monopaterno. non c'è ne più. Non c'è ne più. Potrei piangermi addosso anche per questo. Alberto si sta decisamente guadendo l'estate. Carica tutte le serie foto su Instagram in cui è in discoteca festeggiare. E questo mi ricorda che sto passando l'estate io in casa a studiare e lavorare. Anche per questo potrei piangermi addosso. Alberto ha un sacco di amici. E ogni serata ne ha sempre di nuovi. Ci beve insieme e gli adingi su Facebook. E invece ne ha persi parecchi. Quelli con cui facevo le vacanze al mare 6 anni, per esempio. Ora non ci so più. Chi per la droga. Chi perché ha trovato il meglio affare. Chi per l'egoismo. Chi ha dato lavorare l'ombra. Chi perché magari ha conosciuto Alberto. Dove. Chi permette accionare. Chi per l'obescrizione. Chi per l'au Colombia viva ne parla. Ero l'obescrizione. Chi per l'armi sabbiare troppo spesso. Sconda. tipo quella cosa che lo sbagliando si impara ecco, forse il suo dinero funziona